Un euro, il colosso forlivese di elettronica di consumo ed elettrodomestici, cresce e si rafforza al nord con sette nuovi negozi. Lo scorso dicembre la società si è aggiudicata per 2,5 milioni un ramo d'azienda di Galimberti formato da cinque negozi Euronics, dopo aver partecipato a una procedura competitiva indetta dal Tribunale di Milano. Sono in totale otto i nuovi punti vendita, quindi nel Triveneto, che si andranno ad aggiungere ai preesistenti 36 e ai 26 affiliati. Venerdì pomeriggio i vertici dell'azienda hanno accolto nel nuovo magazzino logistico di Piacenza, inaugurato lo scorso ottobre, 800 fornitori provenienti da tutto il territorio nazionale e dall'estero, oltre ad ospiti e giornalisti. Presentati anche i risultati del gruppo che quest'anno si sono contraddistinti dal segno positivo. I numeri dei primi nove mesi del 2018 hanno fatto registrare una crescita del 15% rispetto al 2017, un anno iniziato con alcune incertezze, ma che poi è decollato a partire dal mese di agosto. Il magazzino logistico di Piacenza si snoda su un'area di 104 mila metri quadrati per un investimento di 11 milioni di euro, ed è un punto strategico per la distribuzione in tutta Italia. Da dove partono i più di 20 milioni di pezzi l'anno tra i 228 negozi di proprietà e i 275 affiliati. Il risultato è un flusso di 125 milioni di persone all'interno dei negozi all'anno per 31 milioni di scontrini emessi.